Eccoci qua, buongiorno, 19 giugno. Vediamo insieme cosa ci propone oggi il libro dell'anno. Versetto di oggi, Osea 13, 6. Quando erano sazi, il loro cuore si ingorgogliva, perciò mi dimenticarono. Quando erano sazi, il loro cuore si inorgogliva, perciò mi dimenticarono. Mi viene in mente quell'altro versetto. Fino a quando mi disprezzerà questo popolo, dice Dio? Fino a quando non avranno fede in me? Dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro. Dio ha fatto in mezzo al popolo di sé una marea di miracoli, era un continuo miracolo. Eppure lo hanno disprezzato. Non hanno avuto fede. Questo è il punto. I motti di oggi. Dobbiamo imparare a vedere la natura. Gli altri, Dio. Dobbiamo imparare a vedere. Voi penserete, ma è chiaro, vediamo. Eh, ma passa tutto. È come se fosse tutto normale. Invece dobbiamo concentrarci sulle opere della creazione di Dio. Dobbiamo pensare alla meraviglia di un fiore, la meraviglia di un'alba, di un tramonto. La meraviglia dei fiori, dei vegetali, degli alberi. La vita è meravigliosa. È una creazione di Dio. Non dobbiamo passare nel tempo con superficialità. Dobbiamo fermarci intanto a riflettere e ringraziare Dio. E' vedere Dio nella sua potenza di creatore. Essere cristiano in Cristo. Vivere da cristiano per Cristo. Soffrire come cristiano come Cristo. Sì, questo è il nostro cammino su questa terra. E quindi dobbiamo sempre far riferimento al Signore Gesù. La riveggio, questo è il nostro cammino su questa terra. Essere cristiano in Cristo. In Cristo. Vivere da cristiano per Cristo. Vivere da cristiano per Cristo. Soffrire come cristiano come Cristo. Soffrire come cristiano come Cristo. Ricordiamo questi momenti veramente profondi oggi. Le sette epoche o dispensazioni? Sì, è molto importante perché quando leggiamo la Bibbia dobbiamo sempre inserire il brano che stiamo leggendo in una epoca. E' uno dei tanti criteri della corretta divisione di cui ci parla 2 Timoteo 2.15. Quindi vediamo adesso le dispensazioni, le epoche, dall'inizio alla fine per quanto ci riguarda, per la nostra esperienza. Poi ci saranno altre epoche in futuro, anche dopo l'ultima che vedremo oggi. Però per il momento noi stiamo vivendo in questa epoca e vediamo in che catena si inserisce. 1. Lo stato edenico o dell'innocenza, culmine espulsione da Eden. Sì, il paradiso, Eden e alla fine l'uomo viene espulso a causa del peccato. 2. Periodo senza legge, i tempi dell'ignoranza, atti 17.30, culmine, diluvio e giudizio su Babel. Senza legge e quindi viene distrutto a tutta l'umanità. 3. L'epoca sotto la legge, culmine, Israele messo da parte. L'epoca della legge e alla fine Israele viene messo da parte per un piano più importante che verrà introdotto. 4. Il periodo della grazia, culmine, il giorno del Signore. La grazia, la grazia. Questo è il punto dell'epoca centrale. È scritto che noi che viviamo all'epoca della grazia viviamo al centro dell'eternità. Siamo al centro dell'eternità. L'epoca della grazia è l'epoca che sta al centro dell'eternità. Quindi siamo davvero in una situazione straordinaria noi credenti nell'epoca della grazia. Dobbiamo davvero ringraziare il Signore e fare di tutto per portare questo messaggio di salvezza in Gesù intorno a noi. Quindi ricordiamo l'epoca della grazia al centro dell'eternità. 5. L'epoca del giudizio, culmine, la distruzione dell'anticristo. L'anticristo e la sua distruzione. 6. Il millennio, culmine, la distruzione di Satana, il giudizio del gran trono bianco. La fine, il giudizio finale. 7. Lo stato eterno di gloria senza fine. Non vincere la terra e lo stato eterno di gloria senza fine. Quindi queste sono le epoche che la scrittura ci presenta. E ricordiamo, noi stiamo vivendo nell'epoca della grazia che è al centro dell'eternità. Andiamo avanti con l'ultima parte dell'alfabeto e tutto quello che i credenti non dovrebbero essere e che nessuno ha mai osato dire che sono. Quindi finiamo questo alfabeto però davvero è messo giù in maniera un po' così simpatica. Però contiene grandi verità. Purtroppo tantissimi credenti fanno proprio parte di una di queste categorie che abbiamo visto cominciando dall'altro ieri da A alla Z. Adesso vediamo l'ultima parte. Quotati in borsa, troppo ricchi. Alla Q, quotati in borsa, troppo ricchi. R, religiosi, molta forma, poca sostanza, molto denominazionalisti. S, superficiali, si accontentano nel culto di qualche versetto, di qualche preghiera. R, t, t, dubanti, non si battezzano mai. U, universalisti, Dio è buono, alla fine salverà tutti, me sicuramente. V, vip, sorridi, Dio mi ama. Sorridi, Dio mi ama. Vi ricordate quegli istintivi, i sorrisi, Dio ti ama. Purtroppo per molti il motto è sorridi, Dio mi ama. Z, zavorra, non esprimono i loro doni, sono solo un peso. Sono solo un peso. Quindi rileggetevi, cominciando dall'altro ieri, l'alfabeto. E riflettiamo. Siamo mica caduti in qualcuna di queste categorie. Riflettiamo e possiamo sempre staccarcene e ricominciare. Soggetti di preghiera di oggi, preghiamo per il gruppo dei giovani della mia chiesa. Il gruppo dei giovani che ha grandi potenzialità. Spesse volte rimane lì senza far niente di importante. E invece il gruppo dei giovani delle nostre chiese hanno una potenzialità incredibile. Preghiamo che la vogliano usare. Preghiamo per le persone colpite da malattie sconosciute. Malattie sconosciute, sì sì. Preghiamo. Preghiamo per le zone d'Italia con una scarsa presenza evangelica oggi per la Calabria. La Calabria. La tragica situazione della stragrande maggioranza della popolazione dell'India. L'India, povertà, malattie. Adesso si sta riprendendo un po' l'India, però rimane una situazione terribile. Sono un miliardo e mezzo e ciacco di sofferenze. Per la preghiera di tutti gli stati del mondo con 8 milioni circa di abitanti, 39 lingue. Preghiamo oggi per il Senegal. Il Senegal. Benissimo. Allora ripetiamo i versetti e i morti. Dobbiamo imparare a vedere la natura, gli altri e Dio. Dobbiamo imparare a vedere. Non passare superficialmente su tutto. Ogni tanto fermarci e riflettere sulla meraviglia della creazione, sulla meraviglia dell'amore di Dio, sulla grandezza della grazia. fermiamoci qualche volta. Ogni tanto fermiamoci e riflettiamo e alziamo gli occhi al cielo. Ringraziamo il Signore per il suo amore, per la sua grandezza, per la sua santità, per la sua verità, per la sua meraviglia, per la meraviglia di quello che ha creato. Essere cristiano in Cristo, vivere da cristiano per Cristo, soffrire come cristiano come Cristo. Questo è il nostro cammino, il cammino che abbiamo su questa terra in attesa del ritorno di Cristo. Nel setto di oggi, Osea 13,6. Quando erano sazi, il loro cuore si inorgogliva, perciò mi dimenticarono. E' una situazione triste che purtroppo è successa col popolo di Israele e spesso succede anche oggi. Noi lo dimentichiamo, affermiamo magari di essere cristiani, però non viviamo da cristiani. E quindi anche noi richiediamo in questa denuncia del Signore Gesù Fino a quando mi disprezzerà questo popolo? Fino a quando non avranno fede in me dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro? Quindi riflettiamo davvero. E se c'è qualcosa che dobbiamo aggiustare nella nostra vita, aggiustiamola. Come preparare un tempo per la preghiera, un tempo per la lettura della Bibbia e la nostra giornata, l'evangelizzazione attenta. Se c'è qualcosa che dobbiamo correggere, facciamolo. Perché è tremendamente importante non deludere Dio. Dio si aspetta da noi la piena consacrazione. Non deludiamolo. Bene, grazie allora ancora per la vostra stima. E a presto!